Uniti e determinati, in coincidenza con la chiusura ufficiale delle liste per le elezioni comunali del 12 giugno, Europa Verde ha presentato i suoi 32 candidati al gran completo, alla presenza della coportavoce nazionale del Movimento, Angelo Bonelli, e del candidato sindaco, Rinaldo Milucci, che hanno ribadito con forza le ragioni dell'Alleanza nell'ambito della coalizione progressista ecosistema Taranto. Abbiamo fatto in questi anni tutto quello che serviva per dare a questa città veramente una prospettiva sostenibile, una prospettiva anche economica alternativa alla monocultura industriale, quindi credo che questa sia la casa naturale per valori, per gli sforzi fatti, per la traditore intrapresa, per il mondo dei verdi. Siamo onorati e il nostro programma ovviamente è intriso dei loro valori, dei loro obiettivi e continueremo a lavorare in questa direzione. Quindi molto contento anche che ci sia qui Angelo Bonelli oggi per festeggiare, per fare l'imbocca al lupo a questi ragazzi per la campagna elettorale. L'unico vero voto ecologista è quello a Europa Verde. In tutta Europa costruire alleanze significa portare il cambiamento. Non sono più sufficienti. A Taranto posizione di mera testimonianza, di chi urla, perché così non si cambia, come diceva Tommasi di Lampedusa. Noi dobbiamo solamente invece stare all'interno di un'alleanza, di un sindaco che ha dato dimostrazione attraverso l'ordinanza di chiusura di voler cambiare questa città. La mia discesa in campo, il mio mettere la faccia, è perché condivido da sempre i valori che questo partito rappresenta. Il programma è molto nutrito, ci sono tantissimi punti che dobbiamo portare avanti.